Quanti ne abbiamo serviti? Alessandra, dove stiamo? A un ristorante che si chiama Miscusi Facciamo una panoramica, stiamo per tornare a Livorno Cosa c'è di particolare questo ristorante? In realtà è un... È un pastificio C'è una ragazza che fa la pasta è buona la pasta, la pasta in casa e poi che ci fai aggiungere il condivente? Sì, un po' come la pizza però la pasta Esatto, è la stessa cosa Allora, mangiato il petto e cosa hai preso? I rigatoni con un sugo di verdura E io cosa ho preso? Le tropie al petto Perfetto, ti è piaciuto? Sì, stai facendo? Sì, andava tutto bene Hai scritto così? Sì, andava tutto bene Scrivici qualcosa, un po' di provocatori Non lo so Non lo so Comunque finisce qui la nostra vacanza a Milano Grande vacanza Sì, non abbiamo racfruttato tutto No, ci mancano un sacco di cose ma rimarranno dei segreti Ah sì, ora Arrivederci